Come sempre accade in casi come questi, tragedie come quelle di Genova accendono i riflettori su tante emergenze e anche su un qualcosa di spesso sconosciuto ma che sarebbe indispensabile per evitare le tragedie stesse, ovvero la prevenzione. E in Calabria sono tanti i ponti e i viadotti sui quali focalizzare l'attenzione. Si è parlato tanto in queste ultime ore del viadotto Cannavino ma anche di quello di Catanzaro e il Bisantis. Sulla strada statale 107 però tra Cosenza e Paola ce n'è anche un altro ovvero il viadotto Emoli 1 lungo 356 metri e alto circa un centinaio. Un ponte in prossimità di San Fili che si presenta almeno per chi percorre la strada in auto in maniera molto simile rispetto al viadotto Cannavino e anche in questo caso da tempo si chiedono interventi e a far sentire la propria voce in queste ore è stato il Codacons che proprio in Calabria ha chiesto di bloccare per 30 giorni il transito di mezzi pesanti sui viadotti a rischio per effettuare le adeguate verifiche di sicurezza. Le emergenze dunque sono tante e la prevenzione come ormai noto non è mai troppo adeguata a quelle che sono le esigenze del territorio ed ecco che alla fine accadono tragedie come questa.